il 22 settembre al suzuki music party di amadeus sarà presentato il nuovo brano immagina una collaborazione unica che coinvolge attenzione attenzione mechna francesca michelin e 13 pietro oh ma che cazzo stasera è bellissimo ma volo altissimo sono riccardo divigiano e ti do il benvenuto a tg kiwi il podcast a tema musica cinema e talent più ascoltato in italia ehi 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 amici del suzuki music party che se siete lì ci becchiamo tutto bene come vi dicevo poc'anzi madonna poc'anzi anche proprietà di lessico che termini vi caccio giù madonna tre cani sponsorizzi la vita e movete pure comunque come dicevo mechna francesca michelin e 13 pietro con la produzione di fudasca sono insieme per cacciare fuori una traccia particolarmente interessanti a suzuki music party di amadeus il 22 di settembre per voi ma non per noi perché noi ci siamo siamo lì dal vivo presenti in sala si sala si vabbè chiamiamola sala vabbè perché l'evento non si poteva perdere e soprattutto siamo lì dal vivo per fare nuovi incredibili contenuti quindi aspettatevi sicuramente su youtube un paio di video io ve lo dico ci sarà sicuramente un backstage dai ve la butto così diciamo che un vlog backstage io fossi in voi lo guarderei perché secondo me ci sarà da ridere vabbè ma al di là di questo ci sarà poi un video molto interessante su diciamo quelle che erano le aspettative prima dell'evento e quelle che sono le impressioni post della gente che insomma era lì e considerando che ci sono 3400 cristiani dentro l'alliance qualcuno qualcuno vuoi che non dica qualcosa di bello vabbè al di là di ciò il brano sarà ufficialmente pubblicato il 20 di settembre per epic records e si preannuncia come uno dei momenti più interessanti dell'evento fudasca non è nuovo a lavorare con mechna e 13 pietro avendo già prodotto per loro in passato e questa sinergia continua a portare alla creazione di pezzi di grande spessore immagina promette di combinare l'introspezione tipica di mechna e la depressione perché ricordiamo i pianti tu mechna tu bastardo che non sia tu devi capire che io con con i pezzi tipo che ne so 31 08 31 09 vabbè la trilogia no mettiamola così o fuori dalla città si baciano tutti e gli occhi sono due cioè non è che posso piangere sempre datti una calmata perché non posso vivere così al di là di questo troviamo l'introspezione tipica di mechna la versatilità di francesca michelin e il flow distintivo di 13 pietro dando vita a un brano in grado di catturare l'attenzione di una vasta audience la collaborazione tra questi artisti dimostra ancora una volta la capacità della musica di unire stili diversi anche grazie all'apporto di fudasca che ha saputo creare una base musicale perfetta per tutti e tre il brano sarà sicuramente ricco di emozione e profondità e la butto lì secondo me sarà anche uno dei più discussi della settimana poi consideremo anche l'evento di lancio quale il suzuki music party che quest'anno promette grandi grandi sorprese o quest'anno si fa la guerra sanremo non so se è chiaro c'è qua c'è amadeus che contro la rai qualcosa è assurdo non resta che aspettare il 20 di settembre per ascoltare immagina su tutte le piattaforme digitali ed assistere alla sua presentazione live esclusiva al suzuki music party pochi giorni dopo